3-1 nel match che vede opporsi la squadra dei Monatti ai ribelli, occhio perché i ribelli vanno in avanti con Castrovinci, la parata di Morrone e poi Ruoppolo riesce a superare un avversario, c'è il primo fallo di Castrovinci proprio su Ruoppolo, non sbaglia qui Mauriello, lo riprendono anche le telecamere, bravo qui l'arbitro da Ruoppolo, deve sicuramente accelerare i tempi di battuta, va a battere comunque questa punizione lunghissima dove però non c'è nessuno dall'altra parte si sbraccia, fa ma è stato letteralmente ignorato, Castrovinci prova a dare ordine sui sull'out di destra, fermato però da De Rosa, ancora Venditti dentro per Ribera di testa la spezza Morrone, ci mette una mano e via in calcio d'angolo, va dalla bandierina, giustamente Ribera lascia, può sfruttare la sua stazza almeno sui calci d'angolo dall'altra parte solo Venditti, dentro la palla che viene allontanata da Morrone, occhio perché potrebbe partire il contropiede veloce De Monatti ma sfuma, in questo caso Marletti può rinviare, di Simone, Ribera, palla che viene persa però da capitano Ribera Brandi per campese, fermato però dall'avversario che non riesce però nell'intento di tenere la palla in campo laterale quindi a favore De Monatti, subito battuta, Brandi, 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 il tiro alto da due passi poteva essere il colpo del KO, così non è stato però, allora nei minuti finali sarà una propria vera bagarre qui con i ribelli anche se la squadra di Castrovinci e compagni sembra piuttosto spenta adesso Nucolancio per fama, perso, totalmente sbagliato, va Brandi, anzi non lascia Roppolo deve battere veloce questa laterale, infatti viene così battuta in maniera efficace però trovando fama, chiude Danilo, Simone, sentiamo anche Morrone, palla che viene battuta dentro per Campese, lascia scorrere, poi Campese la tiene e non la lascia Roppolo, la palla termina sulla laterale, vediamo se viene battuta veloce, Campese temporeggia un po', chiama la distanza messa dentro, Castrovinci allontana, Ribera contro Roppolo, alla meglio Roppolo il numero 27 prova a partire uno slalom, discesa centrale, ne supera due, poi si impappina ma ancora Roppolo vince il rimpallo, ancora Roppolo, Roppolo fa tutto da solo, la mette dentro, blocca Marletti in due tempi e da Castrovinci, aspetta l'arrivo di De Rosa, poi supera anche Roppolo, ancora Castrovinci trova la discesa personale, viene fermato però, troppo solitaria l'azione, il gioco in questo caso dei ribelli, calcio di munizione e noi chiudiamo qui il nostro collegamento e Brandi il migliore in campo per questa vittoria 3-1, quest'oggi De Monatti, allora ragazzi una vittoria comunque difficile, avete sudato un po' più del previsto forse? Sì però vabbè, andiamo a otto, in difesa ci sono stati molti errori, con il nuovo acquisto pure Francesco Fama abbiamo giocato bene, senti, Ribelli è un avversario ostico, ne siete usciti vittoriosi, quindi a questo punto anche in ottica dei playoff è una bella risposta, sì sì, molto buono per l'ultima partita, Parigi a tutti i Galacticos, buono, c'è, si è confermata che siamo a bella scuola, va bene, grazie mille e complimenti